Buongiorno, volevo avvisare i cittadini delle Contrate, soprattutto di Contrate San Barbato e Contrate Eredità, che in queste ore vedrete passare delle persone che si stanno occupando della mappatura del territorio. Che cosa voglio dire? Quelle zone da tempo sono state sprovviste di numeri civici e dell'inserimento in Google Map. Quante volte ci sono state lamentele perché magari non arriva un telegramma, perché magari nel caso di bisogno, se si dovesse chiamare un'ambulanza, non si riesce a trovare la posizione giusta dell'abitazione. Bene, il Comune di Villa Castelli ha stanziato quasi 16-17 mila euro per far sì che queste Contrate finalmente abbiano una loro dignità. Cioè nel senso di stabilire ben preciso qual è il numero civico, la loro posizione, in modo che questi problemi, che possono sembrare piccoli ma importanti in alcuni momenti, vengono risolti definitivamente. Quindi in queste ore passeranno delle persone perché stanno facendo la mappatura di tutta la zona per poter essere inseriti poi tutto questo lavoro in Google Map. E quindi evitare che ci siano problemi sia per la posta, sia per l'impese, sia per gli ospedali, se ti deve chiamare l'automulante. Finalmente questo problema sarà risolto nel giro di due mesi di tempo. Contiamo che a settembre tutto il lavoro sia pronto e che questi inconvenienti non accadono più. Buona giornata a tutti.